Da Radio Speranza trasmettiamo Geriatria in onda a cura del professor Carlo D'Angelo. Cari amici, radioscoltatori, un nuovo incontro con Geriatria online. Chi vi parla è un medico chirurgo specialista in Geriatria e Gerontologia. Mi chiamo Carlo D'Angelo e ho lavorato sempre in Geriatria per i miei 40 anni. Se un medico si laurea intorno ai 24 anni al più presto, voi capite che anch'io sono anziano come voi. Geriatria e Gerontologia. Perché? La Geriatria è la scienza che cura le malattie degli anziani, ma noi ci interessiamo anche della Gerontologia. Ci sono tanti problemi nell'età geriatrica che non sono malattie ma sono ugualmente problemi. Vorrei darvi oggi un annuncio. Chi vuole può telefonare o mandare un'email o andare sulla pagina Facebook per porre un quesito. Occorre per motivi di privacy indicare soltanto il nome, la città da cui si manda questo quesito e chiedere qualche informazione che può stare a cuore, che può interessare. Risponderemo nel corso delle prossime trasmissioni. Si può chiamare il numero 085-690227 il mattino dalle 8.30 alle 12. Oppure mandate anche un'email, l'avete sentita prima, l'email dell'annunciatrice, scrivendo Radio Speranza, chiocciola, diocesipescara.it o per chi è capace, speriamo tanti, andando sulla pagina Facebook di Radio Speranza. Ripeto, il telefono che è più semplice 085-690227 dalle 8.30 alle 12. Nome, città da cui si telefona, problema. Parliamo oggi delle malattie del polmone. Dicendo subito questo, che per fortuna non tutti soffrono di queste malattie, bronchiti, broncopolmoniti, asma, enfisema, bronchite cronica, quello che volete. Perché molti si lamentano però, non posso respirare o respiro male. Tutti i nostri organi nel corso della vita vanno incontro all'invecchiamento, anche l'apparato respiratorio. Voi vedete molte persone anziane che camminano quasi curve in avanti perché aumenta la cifosi, cioè l'accentuazione della colonna dorsale. Con l'invecchiamento si riducono gli spazi fra le coste, le coste sono più riavvicinate, le coste le stesse diventano quasi bloccate con le loro cartilagini e c'è una minore forza dei muscoli respiratori. Ma questo all'esterno, quello che vediamo sulla cambia doracica, all'interno cosa succede? I nostri due polmoni sono come due spugne che servono anziché a trattenere l'acqua, a trattenere l'aria, per prendere dall'aria l'ossigeno e per eliminare nell'aria la nitride carbonica. Voi capite subito che quando meno questi polmoni si espandono, meno aria riescono a inspirare ed espirare, cioè a ventilare. E cosa possiamo fare? Ecco, cominciamo subito a dire come prevenzione che bisogna fare dei respiri profondi, bisogna muoversi, bisogna camminare, tenere in attività anche l'apparato respiratorio. Purtroppo intervengono oltre all'invecchiamento anche dei fattori patologici o delle malattie, dei fattori che portano a malattie. La prima cosa che viene in mente e interessa a tante persone è il fumo. Noi medici andiamo anche nelle scuole, io vado con un gruppo che si chiama Lions Club, un'associazione internazionale, andiamo a dire ai ragazzi non diciamo non fumate, diciamo volete fumare, queste sono le conseguenze. Prima si inizia a fumare nella vita e prima si bruciano i polmoni. Chi vi parla, da vecchio medico, nei suoi corsi di medicina assisteva anche alle autopsie e faceva delle autopsie. Voi vedete il polmone sul banco del macellaio del supermercato, bello, roseo. Il polmone del paziente che ha fumato è nero, è come un pezzo di carbone. In quelle condizioni voi capite che arriva l'insufficienza respiratoria, respiratoria, arriva il bombolone dell'ossigeno e arriva una fine che prima o poi ci spetta a tutti quanti, ma arriva in modo anticipato. Bene, quello che posso dirvi è che smettendo a fumare a qualsiasi età della vita sia un beneficio. Certo, se uno smette di fumare, se non ha mai fumato, la sua possibilità di vita è maggiore. Se uno ha fumato e riesce a fermarsi intorno ai 40-50 anni, recupera molto, non tutto, ma anche chi si ferma a 60 anni, 65, ha possibilità. Anche chi ha superato quest'età, perché riducendo il fumo si riducono tutti quei fattori che portano all'infiammazione e quindi all'infezione. L'infezione è il polmone del bronchio e la bronchite acuta improvvisamente per dei germi che arrivano tramite l'aria, tramite delle goccioline magari di che ha già tosse con espettorazione, o una bronchite cronica, ripetuti episodi bronchitici. Non allarmiamoci, perché è normale avere un poco di infiammazione sulla gola, sulla trachea all'inizio dell'autunno o durante l'inverno. Però la raccomandazione principale che il gerda fa è non cominciare subito a prendere antibiotici, perché i germi sono molto intelligenti, si difendono e si ricordano degli antibiotici che uno ha preso e mettono in atto dei meccanismi, in termine medico si chiama resistenza. Quando starete male veramente, avete la febbre 39-40 e prendete quell'antibiotico, il germe non lo ascolta più, non lo vede, non lo sente e va avanti. E succedono delle conseguenze anche peggiori, come la broncopolmonite, la polmonite, la pleurite, tutte infezioni gravi del polmone. Quindi tosse, vanno bene anche dei semplici mucolitici, vanno bene degli aerosoli, delle generazioni, specie quando c'è qualche irritazione del faringe, non drammatizzare, prima o poi passerà o si ridurrà la frequenza della tosse. Ecco, a proposito dei mucolitici, moltissimi anziani sono abituati allo sciroppo, dottore Emiliano, sciroppo, ecco, sì, lo sciroppo serve anche, ma va bene anche qualcosa di dolciastro, di acqua e zucchero, va bene, qualunque cosa, ricordatevi una cosa che forse non vi hanno mai detto, il primo mucolitico, quando c'è tosse, quando c'è espettorazione e bisogna portare fuori quel muco che c'è in più, il primo mucolitico è l'acqua, bisogna bere perché l'acqua stessa avrà un'azione eliminante le fluidificazioni. Quando la febbre persiste oltre uno o due giorni, si accompagna con tosse, potrebbe essere se c'è anche dolore toracico, è bene prendere degli antibiotici, però sempre secondo il consiglio del medico, uno dice, ma in casa c'è questo tipo di antibiotico, se lo prende e magari avrà dei danni renali, perché alcuni antibiotici non si possono usare negli anziani a dosaggio pieno. Qualche altra idea su quelli che possono essere i fattori che causano le bronchiti, le broncopolmonite, la bronchite cronica fino all'asma addirittura, no? Il lavoro, una volta non c'erano protezioni, l'Istituto Nazionale degli Infortuni per esempio che si interessa anche delle malattie professionali, l'INAIL, raccomanda le mascherine per chi fa certi lavori. Io giorni fa passando per Stato ho visto un signore che con un operaio che stava con il suo martello pneumatico a rompere un marciapiede, forse per allargarlo, per sostituirlo con una polvere enorme senza avere una mascherina. Quello è un soggetto che andrà incontro a una bronchite cronica, che avrà affanno, difficoltà a respirare, non riuscirà a stare allungare nel letto, perché soffrire quando è possibile mettere in atto delle protezioni. E cosa vi posso dire? Questo è l'inquinamento da lavoro, ma questo signore che ho visto io, oltre a stare lì senza mascherina, fumava. Quindi torniamo al discorso del fumo. Il fumo è dannoso, gli animali non fumano, si fanno molte volte degli esperimenti per avere il danno che può avere un cane fumando, mettendo delle mascherine, mettendo una specie di aerosol con le sostanze del fumo. Ebbene, in queste condizioni peggiora la condizione del polmone. Lavoro, fumo e anche per chi non lavora o non fuma, anche per chi è in pensione, mettiamo, poi diremo anche su essere in pensione ed essere pensionati brevemente. È importante dell'inquinamento. L'inquinamento che ci può essere fuori casa, con lo smog, con tutto ciò che viene dalla combustione delle macchine, dei carburanti delle macchine, ma anche l'inquinamento in casa, indoor, all'interno della casa, quando c'è troppa polvere, quando i tappeti non vengono spazzolati, quando la carta da parati non viene pulita, quando c'è un maggiore inquinamento e i polmoni ne risentono. Una delle sensazioni più sgradevoli si chiama dispnea, cioè la difficoltà a respirare. Ora, non confondiamo questo con una patologia. Esiste un proverbio, credo sia un proverbio toscano, che dice se sei vecchio e non lo sai, sali le scale e lo saprai. Voi provate a salire due o tre piani di scale. Il primo piano lo fate, arrivate al secondo, c'è già qualche problema. Ecco, io vi dico, questo non dipende solo dal polmone, dipende anche dal cuore che invecchia insieme al polmone e i due organi lavorano insieme, c'è difficoltà. Parleremo comunque delle malattie cardiache in altra occasione. Quindi la dispnea è la sensazione di difficoltà a respirare. Dobbiamo fare due piani di scale? Lo facciamo in più riprese e la dispnea non viene. Dobbiamo trasportare un pacco che pesa 40-50 kg? Avremo difficoltà. Trasportiamo la stessa merce in più riprese e non verrà la dispnea. Quando la dispnea è continua e insorge anche a riposo e uno non ce la fa respirare, ci possono essere altri problemi, allora occorre sentire il medico che saprà dirvi meglio che cosa fare e come comportarsi. Sul polmone ci sarebbe ancora tanto da dire, lo diremo forse anche nelle prossime trasmissioni, certo in occasione dell'arrivo dell'autunno e poi dell'inverno, la prima raccomandazione che il GR può fare è quella della vaccinazione. A parte i rischi delle epidemie, oggi si parla tanto di Ebola, se ne parlerà anche in futuro, di quello che può capitare nel mondo, ma le grandi pestilenze ci sono state sempre. Immaginatevi alla peste, tutti la conoscono, almeno quella del Manzoni è descritta. Normalmente quando arriva l'autunno bisogna cominciare a pensare alla vaccinazione anti-influenzale. Non è che l'influenza potrà anche venire, ma in forma ridotta verrà messa fuori dagli anticorpi che abbiamo e non darà quelle complicazioni. Ma io mi sono ammalato lo stesso, ci sono tanti virus oltre quelli influenzali, si chiamano con i nomi più strani, rinovirus, picornavirus, ce ne sono tanti, molte volte questi virus danno una semplice tracheite, un'infiammazione, passano senza prendere antibiotici. Io direi che per oggi ci fermiamo, ci sentiremo in altre occasioni, aspetto i vostri inquisiti, le vostre domande come vi ho detto prima e chiudiamo con questo pensiero. Ho detto prima c'è differenza tra essere in pensione ed essere pensionato, sembrerebbe quasi la stessa cosa. Anch'io sono in pensione perché ho lavorato 40 anni in ospedale, però sono in pensione. essere pensionato nel termine comune è quello che non fa niente, che sta seduto su una sedia o sta seduto lungo la panchina di Corso Umberto o da qualche altra parte o a Piazza Garibaldi dove volete voi e sta lì che parla con gli altri. Ecco io vi invito anche oggi a una vita attiva, a fare, fate quello che volete ma muovetevi, pensate, leggete, andate in giro, parlate con gli amici, camminate perché la vita deve essere attiva e più sarà attiva e più lunga sarà nella speranza che il buon Dio ce la mandi buona a tutti quanti. Grazie e arrivederci. A cura del professor Carlo D'Angelo A cura del professor Carlo D'Angelo